Benvenuti al TG7 Basilicata. Un incidente si è verificato quest'oggi sulla superstrada Foggia-Candela. Un camion si è scontrato con un'auto di grossa cilindrata e si è ribaltato sfondando il guardrail e finendo nell'altra corsia. Il conducente del tir è morto nell'impatto, ferito l'autista della vettura. L'incidente è avvenuto in direzione Foggia vicino allo svincolo per Deliceto in corrispondenza di Ascoli-Satriano. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.